Silvia Giai, contadina, nata a Chianocco in Val Susa l'11 aprile del 1925. Gli aerei che rombano in cielo oggi mi hanno riportata indietro nel tempo quasi di 70 anni. Era il 1944, c'era la guerra. Noi due stavamo seduti tenendoci per mano davanti a un caminetto acceso perché nonostante fosse agosto la notte in montagna era fredda. Avevamo tutti e due 18 anni. Gli aerei da bombardamento che passavano alti nel cielo con il loro carico di morte andavano verso la città. Tenevano d'esta la nostra attenzione. Non era improbabile che potessero sganciare qualche ordigno in prossimità della ferrovia o di un ponte. Noi due ci incoraggiavamo a vicenda e nonostante la paura passammo una notte felice. Paghi solo della gioia di stare vicini. I sogni nostri a quell'età erano tanti. Presto la guerra sarebbe finita. Tutto sarebbe stato bello. Tu saresti andato giù a valle alla tua casa alla mamma che non vedevi da tanto tempo per poi ritornare e dare seguito al sogno che stanotte avevi vissuto per farlo diventare realtà. Non così aveva predisposto il destino. L'alba era vicina. Tu te ne andasti verso la montagna a raggiungere i tuoi compagni di lotta. Mi accompagnasti per un tratto fino alla nostra baita dove mi aspettavano la mamma e i fratellini. Poi mi salutasti con un casto bacio e un arrivederci a presto. La guerra finì dopo qualche mese ma non ti ho mai più rivisto. Solo alcuni anni fa ho letto su un giornale la notizia della tua morte avvenuta pochi giorni dopo la nostra separazione. Non ho mai dimenticato. Ogni tanto pensavo a te nel cuore custodivo il ricordo della tua dolcezza. nonostante il tuo nome di battaglia fosse lupo. Addio per sempre. Ora so che non avevi mentito quella notte. Non potevi più tornare che nei miei sogni.